Ho detto a lei che io la mando in Grecia a trovare un uomo. Non ci vuole andare. Non ci vuole andare. Tula aveva trovato l'uomo della sua vita. Vuole vedere dei defianti? Ian aveva trovato la famiglia di Tula. Ian era bello, sensibile e così romantico. Ma non era greco. È straniero, con tanti capelli lunghi sopra la testa. Ci voleva un fidanzato vero, cioè un fidanzato greco. Posso uscire con sua figlia? No! Farò qualsiasi cosa, perché loro mi accendono. Battismo. Viene della parola greca, battismo. Non avremmo mai creduto che ti capitava mai. Il più grosso, grasso film evento dell'anno. In prima TV Canale 5, il mio grosso, grasso matrimonio greco. Domani alle 21. La porfora è una musica che si ripete? Falla smettere. Garnier Frutti's, il nuovo shampoo antiforfora antiricomparsa. Ha il concentrato attivo di frutti. Agisce fin dalla prima applicazione. E la sua efficacia dura quattro settimane. Addio alla porfora. Garnier Frutti's antiforfora antiricomparsa. Garnier. Ecco la strabiliante tecnologia... Pronti ragazzi! Tagliare! ...che rende il nuovo Milka Luflé così cremoso. Cioccolato shakerato in arrivo! Tenero cioccolato Milka montato a neve per creare migliaia di bolle. Nuovo Milka Luflé. La cremosità di mille bolle di cioccolato. Ti racconto la scena. Treno fermo davanti all'asfaltatrice. Noi chiuse dentro questo scompartimento. Un odore acre fortissimo. Ripartiva il treno! Line Seta Ultra. Controlla anche gli odori. Line Seta Ultra non solo resta asciutto e pulito, ma lo speciale nucleo interno è studiato per controllare e neutralizzare gli odori. La libertà è data dal non pensarci. Perché se ci pensassi solo un pochino di più. Forse certe cose non le faresti. Line Seta Ultra controlla odori. Una libertà in più. Sfido chiunque a pulire questa padella senza prelavare. A meno che non passi a Finish Powerball 3 in 1. Come me. Grazie alla sua nuova formula rimuove anche lo sporco più difficile. Pulito? Al 100%. Nuovo Finish Powerball 3 in 1. L'unico raccomandato. Maestro, è tardi! Il Natale è alle porte! Piano! Il panettone Maina non è ancora pronto! Impastare presto! Impornare presto! Piano! Il gran nocciolato Maina deve lievitare due giorni! E noi stiamo in ballo due giorni? Ballo? Ci vogliono due giorni di lievitazione naturale per la bontà morbida del panettone gran nocciolato Maina. Piano! Maina, piano piano, buono buono. Giovanni Rana presenta Sfoglia Grezza La nuova pasta fresca ruvida Molto ruvida Per trattenere meglio il sugo Come quella fatta a mano Nuova sfoglia grezza Ruvida come una volta Scommettiamo che piacciono anche a te? Sfoglia Grezza Sfoglia Grezza Grazie a tutti! Sfoglia Grezza Grazie a tutti.